Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere come realizzare uno di questi uno spirito dei boschi, un piccolo idolo vichingo insomma una scultura in legno molto bella e nello stesso tempo molto semplice da fare l'ho realizzata direttamente qui nel bosco non utilizzando i classici strumenti da intaglio bensì un utensile rotante a batteria ma facciamo un passetto indietro da dove nasce il mio interesse per un oggetto simile che apparentemente c'entra poco o niente con le tematiche che tratto qui sul canale qualche mese fa tra le innumerevoli pubblicità che mi arrivano e che immagino arrivino anche a voi tramite Instagram c'era lo spot di una penna per incisione a batteria molto piccola, portatile, dotata di varie punte per incidere, per levigare e via dicendo e lì mi è venuta l'idea a me piace fare lavoretti manuali possiate già un utensile di questo tipo però alimentato con la corrente ho pensato sarebbe stato figo averne un altro alimentato invece a batteria in modo da poter lavorare dovunque anche in mezzo al bosco, in mezzo alla natura con un utensile rotativo si possono realizzare delle piccole sculture in legno si possono incidere dei ciottoli per ricavarne dei ciondoli insomma le possibilità sono tantissime non mi sono fermato a quell'oggetto lì di cui mi era comparsa la pubblicità ho fatto una ricerca più ampia per documentarmi un po' per vedere cosa offriva il mercato mi serviva un qualcosa come già detto che fosse alimentato a batteria che fosse ragionevolmente piccolo e leggero da poter essere portato all'interno da uno zone da escursione e mi sono imbattuto nella auto che fa dei prodotti veramente interessanti fighissimi a livello di design delle robe veramente particolari tra cui questo rotary tool di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione oh, mi si è acceso siccome so che tra di voi che mi seguite ci sono tanti appassionati di fai da te ho pensato che sarebbe stato interessante portare una roba del genere sul canale così ho contattato la auto ho chiesto se me ne mandavano uno gratuitamente in cambio di un video di presentazione ed eccoci qua ringrazio la auto e vi mostro rapidamente di cosa si tratta questo è il rotary tool molto bello esteticamente bei materiali, belle finiture dà veramente l'impressione di un prodotto di qualità qui c'è il pulsante di accensione questo è il selettore della velocità da 5.000 a 25.000 giri al minuto prese d'aria per il raffreddamento del motore questo è il pulsante di blocco del mandrino questa qui è l'impugnatura che consente appunto di impugnare l'utensile come se fosse una penna e avere un maggior controllo nei lavori di fino c'è persino una lucetta che consente di illuminare l'area di lavoro questi sono gli accessori inclusi tranne queste due che ho comprato a parte ci sono varie fresette per la lavorazione del legno utensili per lucidare e per levigare insomma classico set di inserti vi segnalo che c'è anche un adattatore per il mandrino che consente di montare alberi di diametro inferiore a quelli inclusi tipo questo qua la cosa bella è che gli accessori vi arrivano contenuti all'interno di queste scatolette che si possono agganciare e sganciare l'una all'altra se ne possono aggiungere volendo delle altre questa è la custodia del rotary tool con tutti gli accessori con la basetta per la ricarica e direi che per quanto riguarda il nostro amico siamo a posto adesso andiamo a vedere come scolpire l'altro nostro amico per prima cosa realizzo uno schema del viso a matita in modo da avere una traccia su cui lavorare metto le parti principali la fronte, gli occhi, il naso e la barba il secondo passo è tracciare un solco sulle linee a matita in modo da iniziare a separare le parti che andranno scavate da quelle che andranno lasciate in rilievo questa fresa qui è quella più grande che ho acquistato separatamente ora comincio ad asportare materiale dove serve usando la fresetta più piccola una di quelle incluse con lo strumento è una fresa cilindrica discretamente tagliente che consente di scavare il legno in maniera precisa andando a definire i vari spigoli l'utensile si maneggia veramente molto bene è leggero e piacevole da usare dopo aver intagliato tutte le parti del viso monto il rullino con la carta vetrata abbasso un po' i giri del motore e comincio a smussare e a levigare a questo punto uso la fresetta conica per intagliare i buchetti delle narici e quella sferica per gli occhi l'estrema maneggevolezza del rotary tool si apprezza particolarmente quando si devono fare questi lavori di fino ed ecco qua il mio spirito il viso è appena abbozzato nulla di particolare quest'altro già mi è venuto meglio inizio a prenderci la mano ragazzi per concludere faccio due considerazioni veloci sul rotary tool giusto per anticipare alcune domande che sicuramente mi farete secondo me in generale è un bel prodottino che vale il prezzo che costa ovviamente parliamo di un attrezzo piccolo e leggero alimentato a batteria pensato per piccoli lavori quindi non ha senso confrontarlo in termini di durata e di potenza con quelli che si attaccano alla corrente i contro quali sono? la durata della batteria quella dichiarata è di 50 minuti e confermo che più o meno siamo in linea del resto raga sono 2000 mAh l'utensile è piccolo non potevano mettere una batteria gigante alle brutte si attacca un power bank poi ovviamente abbiamo la potenza che non è esagerata ma vale lo stesso discorso fatto poco fa i pro sono la possibilità di lavorare dovunque e l'estrema leggerezza e quindi facilità di utilizzo del tool considerate che io sono un principiante della scultura con rotary tool eppure sono riuscito a tirare fuori già delle cosette abbastanza carine proprio perché l'attrezzo è molto maneggevole e devo dire che le fresette in dotazione sono anche di discreta qualità fatemi sapere se questo video vi è piaciuto ragazzi se vi è stato utile lasciatemi un commento qui sotto se i miei video vi piacciono iscrivetevi al canale vi ringrazio per la visione un saluto e ci vediamo ad un prossimo video vi ringrazio per la visione